buongiorno a tutti oggi vedremo un interessantissimo concetto usato per attaccare un altro metodo d'attacco e contro il re arroccato che mi piace chiamare blocco tattico abbiamo già accennato di alcuni metodi d'attacco tipici come il dono greco inventato da giochino greco abbiamo parlato della demolizione o distruzione dell'arrocco dove si sacrificano addirittura due pezzi contro due pedoni dell'arrocco ok in quanto al blocco tattico si può sacrificare del materiale per bloccare fisicamente un pedone dell'arrocco nemico che statisticamente è il pedone f allora lo scopo del blocco tattico è triplice allora evitare che alcuni pezzi nemici giungano alla difesa attraverso alcune diagonali o attraverso la settima traversa evitare che gli stessi pedoni nemici si possano muovere giungendo in difesa oppure evitare che le spinte dei pedoni nemici creino delle case di fuga che possono permettere la migrazione del re avversario questa partita il nero gioca re h8 che è una mossa sbagliata il nero pensa che il suo re nell'angolo sia al sicuro perché se il bianco lo provasse ad attaccare con alfiere 4 seguirebbe f5 chiudendo la diagonale dell'alfiere e poi anche sarebbe anche difesa lungo la settima traversa e l'attacco del bianco fallirebbe cosa fare con il bianco bianco un sacrificio meraviglioso cavallo f6 due punti esclamativi tale cavallo il cavallo in f6 attacca la donna e in più c'è una minaccia di matto in h7 quindi tale cavallo va eliminato ma è ora come ora il pedone c'è un blocco tattico del pedone in f7 ricordo che il blocco che è stato teorizzato per prima di tutto da aaron ninsovic un giocatore di cui abbiamo passato di cui abbiamo dello stile iper moderno che ha innovato molto gli scacchi parlava del blocco di lasciare gli avversari col pedone passato per poi bloccarlo ma qua blocco un concetto tattico ora giochiamo alfiere 4 e nero non può spingere il pedone f il pedone bloccato se nero spingesse il pedone f potrebbe chiudere la diagonale di questo alfiere e la donna potrebbe partecipare alla difesa ma il nero non può fare nulla di tutto ciò non c'è modo di parare tale minaccia nero non resta che abbandonare perché sulla g7 seguirebbe il matto certo il nero potrebbe giocare alfiere f5 ma dopo alfiere per f5 con matto sempre imparabile attacco alla regina e nero dovrebbe perdere la donna con vantaggio di materiale decisivo per il bianco quindi secondo me un bellissimo esempio blocco tattico esiste è stato giocato in molte partite vediamo per esempio questa partita giocata tra due fortissimi giocatori è stato è stata giocata nel torneo di Sienfuegos del 1977 tra Jostik Dorfman fortissimo giocatore francese di origine sovietica e Olegro Meishin giocatore russo fortissimo dove qua il bianco con una volta per analogia prima giocatore h1 il bianco pensa di non avere nessun rischio il bianco pensa che dopo alfiere e5 seguirà f4 e si chiude la diagonale per l'alfiere e l'attacco del nero finisce prima ancora di iniziare in caso di alfiere per f4 il bianco cambia l'alfiere del fuori pericolo tra su donna per f4 seguireva alfiere per g per donna per comunque il nero non è pezzi per attaccare se è sicuramente il nero non starebbe meglio in questa posizione cosa gioco il nero alfiere per f3 la mossa è splendide che ha come scopo quella di creare un blocco tattico il pedone f bloccato il bianco non potrà spingere tale pedone in nero gioca alfiere e5 il bianco abbandona non c'è modo di parare il matto alfiere f4 interponendosi non fa che allungare l'agonia il re bianco verrà comunque catturato se non c'è nessun modo di interporsi per il matto non c'è nessun modo di portare pezzi in difesa perché il pedone f blocca le difese l'uomo la settima traversa sulle g2 ma più in h2 vediamo a questo punto un celebre esempio del mio giocatore preferito di tutti i tempi che non è niente meno che il grande bobby fischer bobby fischer giocò questa partita contro paul benko nel campionato degli stati uniti che si è tenuto a new york nel 1963 bobby fischer ha vinto penso che ha vinto una serie di più di dieci in realtà non lo so una decina forse più un po di più un po di meno di campionati statunitensi di fila proprio spazzava via tutti gli avversari mi sembra che abbia vinto un campionato statunitense addirittura con un punteggio pieno tra l'altro è stato campione del mondo ha sconfitto appunto tutto il sistema di stato sovietico che appunto nello stato sovietico c'erano appunto appoggi da parte dello stato appunto al gioco degli scacchi tutti durante durante l'unione sovietica appunto i giocatori avevano tranquillità economica perché appunto i leader politici gli assegnavano l'autostipendio si occupavano di tutte le loro spese gli finanziavano gli allenatori e tutto e bobby fischer ha sconfitto da solo tutto questo sistema e non è a caso che quando giocava negli stati uniti con i suoi connazionali vinceva a mani basse comunque questa partita è scaturita da una difesa pierce che abbiamo menzionato penso che abbiamo giocato in un video di braccio e mente contro la difesa pierce il bianco ha giocato l'attacco austriaco spingendo i piedoni f tra l'altro la colonna f aperta ecco il bianco qua ha giocato donna h5 la minaccia del bianco è catturare in d4 per fare un attacco di scoperta qua il nero avrebbe dovuto ritirare il cavallo cioè per esempio se il nero avesse giocato una mossa come a6 bianco giocherebbe alfiere per e per e5 vincendo perché c'è un attacco sul cavallo c'è un attacco da matto nero probabilmente avrebbe dovuto ritirare il cavallo ma benco vuole fare il furbo benco gioca a donne per portare la donna in difesa lungo la diagonale donne 8 h5 uno potrebbe chiedersi ma che cosa aveva in mente benco se fisher gioca la stessa idea fiere per d4 e per d4 ed e5 con minaccia contro h7 contro d6 che è una follia gioca fatto benco no perché dopo questa replica naturale benco avrebbe avuto la bellissima f5 che interpone dove il pedone si interpone dove c'è un attacco contro la donna bianca ora in caso di donna per e8 avrebbe potuto seguire qualsiasi cattura in e8 per esempio anche il cavallo per e8 e il nero è a posto perché poi il bianco sposterà il cavallo il nero prende in e5 bianco prende in f5 e in finale è giocabile per entrambi me è circa pari il nero non prenderà matto immediatamente se il bianco prendesse in f6 avrebbe la donna in presa quindi l'incredibile f5 risolve tutti i problemi del nero per chi chiude la diagonale all'alfiere bianco cosa giocò fisher fisher gioca una mossa stupenda che secondo me è degna di rimanere nella storia torre f6 due punti esclamativi il blocco tattico del pedone f ora su alfiere per f6 segue si e5 e il matto in h7 è imparabile la versione un po più difficile dei temi visti prima su qualunque presa in e5 gli alfiere di donna segue il matto se il re prova a scappare segue il matto se il cavallo si muove si cattura il cavallo di nuovo segue il matto su h6 si cattura il pedone e poi segue il matto a questo punto torre f6 vincente anche i mostri come di per c3 avrebbero perso per e5 con minaccia di matto da notare che h6 non non salverebbe per lo scacco sul fiere per h6 donna per h6 re g8 e donna h7 in caso di alfiere per torre per h6 re g8 il bianco darebbe matto in due con la combinazione dello sgombero di una casella il bianco sacrifica la torre in modo da sgomberare appunto la colonna h e poter dare matto in h7 torre f sia una mossa devastante nero giocò re g8 bianco giocò e5 e nero giocò h6 qui a questo punto il bianco ha numerosi modi di vincere però diciamo che in caso di adesso a questo punto in caso di diciamo di torre per h6 f5 avrebbe complicato le cose perché avrebbe proposto il cambio delle donne la diagonale chiusa la vittoria non sarebbe stata così facile in caso di torre per d6 nero giocherebbe donna per e5 minaccia il cambio delle donne e a questo punto la partita è complessa c'è il bianco un pezzo in più ma sotto la torre e la torre il cavallo e su cavallo e 4 alfiere per cavallo per ci sono due pezzi per la torre non è così semplice il gioco è complesso il nero avrebbe potuto continuare la partita in più in caso di e per d6 alfiere per f6 donna f5 che minaccia matto il nero avrebbe potuto giocare scacco in e3 per poi creare un buco per il re per scappare ancora il cavallo sotto attacco sembra che il bianco potrebbe vincere con potrebbe avere un attacco vincente giocando in questo modo ma ok ora analizzando dopo decenni dopo più di mezzo secolo con i motori d'analisi è molto facile ma e all'epoca di fisher non era facile scoprire tutto questo soprattutto la scacchiera fisher cosa fece fisher giova una mossa stupenda nella sua semplicità allora che cos'è impresa il cavallo anche la torre ma la torre è tabù non si può catturare quindi cavallo e 2 mantenendo lo status quo e dopo questa semplice mossa il nero abbandona perché il nero abbandona e nel 5 non si può prendere perché c'è impresa la donna cioè sì perché la torre si interpone solfiere per f6 segue donna per h6 e poi matto su cavallo f5 alfiere per f5 segue di nuovo matto se il cavallo si sposta per esempio cavallo b5 il cavallo smette di controllare la casella f5 e quindi su cavallo b5 donne f5 poi c'è matto imparabile su qualsiasi altra mossa per esempio su donne 7 allora il bianco avrebbe potuto catturare in d6 con un pezzo in più e vantaggio di materiale decisivo quindi bravissimo fisher che ha distrutto tutte le difese nemiche ma cosa bella secondo me questa mossa che mette la torre in presa con il semplice scopo di bloccare il pedone f evitando questo trucco e 5 che sembra che vince e 5 quindi bravissimo fisher e spero che davvero che possiate usare queste idee del blocco tattico per poter impedire ai difensori nemici di tornare in difesa e per vincere quindi moltissime partite grazie e a presto e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao